Siete ancora, ed oggi come sempre, i poveri comunisti! 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 Siete ancora, ed oggi come sempre, i poveri comunisti! 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 Siete ancora e due, come se tre, come fuori, come se tre. E' un po' di metodo, chi è fa? E' un po' di metodo, chi è fa? E' un po' di metodo, chi è fa? Grazie a tutti Grazie a tutti